Shalom, shalom, shalom. Eccoci qui con una breve lezione e prima di iniziare voglio ringraziare e lodare il Padre Yahawa nel nome di suo figlio e nostro re-rendentore e salvatore, Yahawa Shai. I miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Mewstone GMS per avermi insegnato questa verità e come sempre pace e saluti alla Casa di Israele a coloro che con sincerità cercano questa verità e lo fanno arrivare ai quattro punti della terra. Questa lezione sarà molto breve, ho poche scritture da leggere, ok? È una sorta di incoraggiamento, ok? È una sorta di avvertimento. Perciò voglio iniziare leggendo dal libro di Ecclesiaste che qui su questa versione delle scritture che ho preso che è la traduzione interconfessionale in lingua corrente che ha la traduzione molto più giusta di tutto il resto di questo versetto qui che dice capitolo 12, versetto 13, libro di Ecclesiaste e qui c'è scritto In fin dei conti, una sola cosa importante, credi in Yahawa e osserva i suoi comandamenti e questo solo vale per ogni uomo. Yahawa giudicherà tutti quelli che facciamo di bene e di male, anche le azioni fatte in segreto. Ok? È chiaro che l'importante, la cosa più importante per ogni uomo è quello di osservare i comandamenti del Padre. I comandamenti del Padre sono per il nostro benessere, ok? Venite fuori da queste religioni qui che vi sviano, che vi portano verso la strada che porta alla morte. Una volta cominciate ad avere il timore del Padre e osservare i suoi comandamenti, studiare le sue parole, vedrete che è proprio la vita, la vita giusta e vedrete che lo stile di vita è lo stile di vita perfetta. Non c'è un altro stile di vita meglio di questo. Ok? Ora leggo anche il libro di Matteo. Il libro di Matteo. Capitolo 11 Versetto 28 Che dice Venite con me tutti voi che siete stanchi e oppressi, io vi farò riposare. Accogliete le mie parole e lasciatevi istruire da me. Io non tratto nessuno con violenza e sono buono con tutti. Voi troverete la pace perché quel che vi comando è per il vostro bene. Quel che vi do da portare è un peso leggero. Avete visto? In questa gente venite a me tutti voi che siete stanchi e oppressi. Chi sono questi stanchi e oppressi? Sono i figli di Israele. Ok? Che sono stati sparsi sui quattro lati della terra, presi in schiavitù. Sono sotto in società. Ok? Questo versetto sta parlando a noi. Andiamo a vedere un'altra versione più facile. Vediamo la nuova riveduta 1994 che dice Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio gioco e imparate da me perché io sono mansueto e umile di cuore e voi troverete riposo alle anime vostre poiché il mio gioco è dolce e il mio carico è leggero. Wow fratelli e le poche sorelle che guardano questi video che faccio, che stanno cercando di cambiarsi venite lasciatevi guidare da padre mollate queste cose mondane mollate i vostri desideri mondane e seguite questa strada avete il timore del padre cominciate a studiare le sue parole mettete in pratica al meglio della vostra capacità i suoi comandamenti e vedrete che non esiste un pace un stile di vita meglio di questo troverete pace il gioco del padre non è pesante il gioco del padre è leggerissimo anzi è il gioco di questo mondo che è pesante è il gioco di questo mondo che è insopportabile che ti fa perdonatemi che ti fa venire fuori la bestia in te ok ora andiamo a leggere dal libro di Giacomo James Giacomo capitolo 1 versetto 12 versetto 22 Giacomo 1 versetto 22 ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto eludendo voi stessi perché se uno è ascoltatore della parola e non esecutore è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio e quando si è guardato se ne va e subito dimentica come era ma chi guarda attentamento nella legge perfetta cioè nella legge della libertà e in essa per serverà per serverà non sarà un ascoltatore smemorato ma uno che la mette in pratica e gli sarà felice nel suo operare ok avete visto questo versetto è molto chiaro ok non siate solamente ascoltatori della parola perché tanti della casa di Israele perdonatemi tanti della casa di Israele sentiranno queste parole gli scatta quella scintilla ma non faranno non faranno i passi per metterle in pratica ok e quando se sei fatti un esame di conscienza se fai parte di questi comincia a pensare a pregare affinché il padre ti possa dare doppia porzione del suo spirito e quando parlo del padre non parlo di nessuno altro ok Yahweh Bahashem Yahweh Shai la parola Bahashem vuol dire nel nome e il suo figlio si chiama Yahweh Shai ok non siate solo ascoltatori mettete in pratica ok e poi il padre si rivela a voi vi darà quella pace là e vi guiderà alla vita eterna vi dico tutto questo perché come vedete stiamo stanno arrivando dei momenti più difficili nella storia dell'umanità ok coloro che non mettono in pratica queste parole non hanno niente a che aggrappare in quei tempi là ok vado avanti e leggo dal libro di secondo Timoteo secondo Timoteo nel capitolo 3 e versetto 5 che dice aventi l'apparenza della pietà mentre ne hanno rinnegato la potenza anche da costoro allontanati poiché nel numero di costoro ci sono quelli che si insinuano nelle case e ci ci quiscono donette cariche di peccati agitate da varie passioni ok avete capito aventi l'apparenza della pietà mentre ne hanno rinnegato la potenza ok tanti fanno solo finta ok state attenti da questi qui e questo qua sta parlando anche delle chiese delle varie religioni ok dall'apparenza hanno l'apparenza della pietà mentre ne hanno rinnegato la potenza ok fate attenzione anche di questi fratelli e vi leggo il libro ho altri due libri e chiudiamo libro di Isaia 29 e 13 che dice il signore Yahweh ha detto poiché questo popolo si avvicina a me con la bocca e mi onora con le labbra mentre il suo cuore è lontano da me e il timore che ha di me non è altro che un comandamento imparato dagli uomini in mezzo a questo popolo io continuerò a fare delle meraviglie meraviglie su meraviglie la saggezza dei suoi saggi perirà e l'intelligenza dei suoi intelligenti sparirà ok avete visto dovete continuare a leggerlo perché mi spiega molto di più ma volevo concentrarmi qui il signore Yahweh ha detto poiché questo popolo si avvicina a me con la bocca e mi onora con le labbra mentre il suo cuore è lontano da me voi non potete prendere in giro i padri Yahweh Pahashem Yahweh Shai prendete in giro solamente voi stessi non lo potete prendere in giro ok perciò fatevi una bella esame di conscienza quello che vi mancate pregate affinché vi possa essere data e fate questo cammino che è questo cammino che porta la vita ok e per chiudere torniamo al libro di Matteo che mi sa parlare della stessa cosa 15 e 8 avete visto parlare proprio della stessa cosa questo popolo mi onora con le labbra ma il loro cuore è lontano da me in vano mi rendono il loro culto insegnando dottrine che sono precetti dei uomini ok e coloro che non credono che il vecchio testamento il nuovo testamento stanno parlando delle stesse cose l'ennesima prova qui perché i discepoli anche Yahweh quando è venuto lui quello maggior parte delle cose che dicevano erano dei profetti antichi i profetti del vecchio testamento perciò poi le leggi sono ancora valide i comandamenti che sono ben 613 ok se leggete bene comunque vi avviso per l'ennesima volta prendete solamente in giro voi stessi non prendete in giro nessuno nemmeno noi non a pensare al padre ok coloro che parlano e parlano e basta e non fanno non mettono in pratica queste cose qui non stanno facendo niente vi insegniamo i nomi giusti ma continuate a pagare a Gesù questi sono cavoli vostri ok perché non prendete in giro nessuno prendete in giro solamente voi stessi il tempo si sta accocciando sempre di più le cose stanno succedendo veloce e si vede che siamo proprio alla fine di questo regno il regno dei malvagi dei figli di Esau svegliatevi figli di Israele che è ora prima che sia troppo tardi detto questo spero che siete stati edificati e lascio tutti questi insegnamenti nel sacro nome del padre Yahweh nel nome di suo figlio nostro re reddettore Yahweh Yahweh Mio doppio onore ai apostoli anziani della Great Mewstone per avermi insegnato questa verità e come sempre pace i miei saluti alla casa di Israele a coloro che cercano con sincerità questa verità Shalom alla prossima